Ciao, sono Giovanni Antonio, sono il manager di Lette di Rural Heritage Tour & Food in Sardinia, un'associazione che si occupa di valorizzazione turistica del territorio. Sicuramente il corso Artest ci ha dato le indicazioni per passare dalla produzione di un prodotto artigianale a un prodotto più completo, seguendo un disciplinare che garantisce sicuramente la vincita del prodotto.